...possibilità di rappresentare il Paese con una coalizione compatta. Io leggo in queste ore che una parte del Movimento 5 Stelle vuole inserire nella risoluzione che impegna il Presidente del Consiglio di andare in Consiglio europeo, frasi e parole che disalliniano l'Italia dalle alleanze storiche in cui è. Disallinea l'Italia dall'Alleanza Nato, disallinea l'Italia dall'Unione Europea, disallinea l'Italia da quella che è la sua postura internazionale. Noi non siamo un Paese neutrale, noi siamo un Paese che ha delle alleanze storiche e lasciatemi dire anche che non è il caso, non diamo grande prova di maturità politica quando strumentalizziamo il Presidente del Consiglio come abbiamo fatto ieri oppure quando ci vantiamo di aver prodotto il suo viaggio a Kiev. Il viaggio a Kiev del Presidente Draghi con Scholz e Macron è frutto di una grande azione diplomatica del Presidente del Consiglio che ha dato il segnale di un'Unione Europea compatta in solidarietà dell'Ucraina. Io credo che dobbiamo fare tutto quello che serve affinché nella risoluzione di maggioranza ci sia il massimo sostegno al Presidente del Consiglio e dobbiamo necessariamente ricordarci che questo è un Paese che ha delle sue alleanze, ha delle sue dinamiche e dobbiamo continuare a sostenerle per ottenere la pace. Io mi sono permesso semplicemente di porre dei temi, io mi sono permesso solo di aprire un dibattito su alcune questioni come la Nato, come la guerra in Ucraina e la pace, come la transizione ecologica, come le ricette per le imprese e ho ricevuto insulti personali come quelli che ho visto stamattina, insulti personali come quelli che abbiamo visto nei giornali stamattina. Io temo che questa forza politica poi rischia di diventare una forza politica dell'odio, una forza politica che tra l'altro nello Statuto ha il rispetto della persona. Io credo che su questo noi dobbiamo parlare di temi, il nostro elettoriato è disorientato perché quando si pongono dei temi ci sono degli attacchi personali, questo non è assolutamente accettabile. Come? Non è chiara qual è la nostra ricetta per il Paese, ci sarà un perché nella risoluzione, nella cosiddetta coalizione di maggioranza, siamo molti partiti, il PD sale e noi scendiamo. Forse perché non abbiamo ben chiare quali sono le ricette per le partite IVA, per gli imprenditori, per i lavoratori, per il futuro del nostro Paese a livello internazionale. E lasciatemi dire anche un'ultima cosa, e poi mi taccio, questa storia del secondo mandato. Questa è una forza politica, il Movimento, che oggi non sta guardando al 2050. Questa è una forza politica che sta guardando indietro, si sta radicalizzando, sta tornando indietro. Allora che senso ha cambiare la regola del secondo mandato? Io invito gli iscritti a votare secondo i principi fondamentali del Movimento. Li invito io, perché questa è una forza politica in coerenza con quello che sta succedendo, che si sta radicalizzando all'indietro.